Colossea vende la tua casa metri quadrati circa con terrazzi in un condominio elegante e riservato L'immobile è posto al piano primo e internamente presenta salone e cucinotto camera matrimoniale servizio e due terrazzi ed ecco il salone L'appartamento si presenta in ottime condizioni e ben accessoriato con cucina redata su misura in ferriate infissi in alluminio con doppio vetro e zanzariere ed è anche molto luminoso grazie a una delle due esposizioni a sud ovest Concludiamo il nostro tour immobiliare dalla zona notte composta da una camera e servizio Vi ricordiamo che per scoprire tutti i dettagli della proposta potete contattarci allo 06 50 91 53 70 o consultando il link nella descrizione del video Per vendere o comprare il tuo immobile a Roma scegli Colossea Cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti.